Buongiorno, in mancanza di sostegno questi bambini finirebbero come i loro genitori analfabeti a raccogliere foglioline di tè per lo stesso miserabile compenso. Ma grazie a un generoso benefattore e all'impegno di Missione Calcutta, per loro non sarà così. Abbiamo infatti in costruzione un complesso scolastico che una volta terminato accoglierà oltre 1500 bambini e studenti, cambiando totalmente il loro futuro. La struttura offrirà ciò che questa gente non avrebbe mai osato sperare. Non solo dito, alloggio e istruzione, ma anche cure mediche se necessarie. Il nostro generoso benefattore ha pensato a tutto, prevedendo un dispensario e una clinica mobile per portare l'aiuto a chi non è in grado di muoversi. Parecchie centinaia di bambini sono già stati accolti nell'ala finita. Frequentano la prima e la seconda elementare grazie all'aiuto di altrettanti padrini e madrine. L'anno prossimo sarà pronta una nuova classe. Ci dimostrano la loro gioia con ghirlande, canti e balli. In occasione delle nostre visite le cose vengono organizzate alla grande. Famiglie intere parteciparò all'incontro che si trasforma in una simpatica, in quanto commovente manifestazione per tutti, sia adulti che bambini. Sono venuti a ringraziarci per l'insferata opportunità che diamo ai loro figli. Il nostro intervento ha qualcosa di provvidenziale per loro. Arrivano fin dal primo mattino e si fermano fino a tardo pomeriggio, sapendo di poter montare sul pranzo offerto da Missione Calcutta. Prima di tornare a casa, ognuno vorrebbe stringerci da mano il segno di gratitudine. Ecco un altro istituto aiutato da Missione Calcutta, sempre al nord dell'India, Sonada. Come Udla Bari, anche qui aiutiamo con cibo, bestiario, scuola e non ultime, anche alcune lecornie sono assicurate ai figli di poveri immigrati provenienti dal vicino Nepal. Molti raccoglitori di tè vivono in condizioni di costante precarietà. Spesso si ammalano di bronchiti, tosse e dovuti al clima rigido che caratterizza questo luogo per gran parte dell'anno. Sono oltre 200 i bambini attualmente accolti nell'istituto grazie al sostegno di Missione Calcutta. Grazie a tutti. Ancora una volta, la distribuzione di dolciumi, dentifricio, saponente si trasforma in una vera e propria festa. Continuiamo il nostro percorso per Darjele, conosciuta in tutto il mondo per il suo famoso. Strada facendo, ci imbattiamo in una festa folcloristica con balli e canti, l'occasione per un gradito intervallo al nostro fitto programma. Darjele è famosa anche per un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. un'altra particolarità. Qui si trova la ferrovia più alta del mondo, costruita dagli inglesi durante la loro dominazione, allo scopo di trasportare il dè a valle per confezionarlo e spedirlo ovunque. Nonostante il punto economico, in India la malnutrizione è più diffusa che in Africa. Adessa si accompagna l'altro grande problema dell'analfabetismo, un indiano su cui infatti non sa né leggere né scrivere. povertà, fame e analfabetismo. Questa è l'altra faccia dell'India ancora oggi, una nazione in pieno sviluppo industriale e che allo stesso tempo ha bisogno di un'attività. Eccoci al termine del nostro viaggio e di questa testimonianza. Si dice che una pianta che cade fa più rumore di un bosco che cresce. Missione Calcutta è felice di poter essere una delle tante piante di un bosco che cresce. Missione Calcutta è felice di poter essere una delle tante piante di un bosco che cresce.